non trovai d'essere in ultimo umiliato pensai ma perché sono nato in questa famiglia disperata e fatto un esame di coscienza non trovai d'essere un infame o un delinquente da mostrare a dito al contrario scrutata la mia anima la trovai pura perché? commento perché per contrapasso dovevi sperimentare una famiglia opposta a quella che tormentasti in una vita precedente è un'altra parte Grazie a tutti